All'inizio la mia scelta si era affidata sul classico, quindi ho provato per il primo anno ad entrare nel classico, a fare quell'anno lì, non è andata benissimo e sono così passato a figurativo, quindi ho scelto un percorso più o meno simile, analogo, sempre nell'indirizzo dell'arte e della cultura e ho finito la scuola superiore a liceo artistico come indirizzo figurativo. Il percorso delle superiori non è stato incredibilmente brillante, sono stato abbastanza uno studente alla norma, non ricordo cosa mi avessero consigliato i miei docenti in realtà, poi alla fine in realtà ho fatto abbastanza di testa mia perché direttamente dall'indirizzo artistico figurativo sono passato poi a un indirizzo musicale, quindi ho totalmente cambiato quella che era forse la scelta più ovvia, ovvero andare in Brera o continuare con le discipline artistiche. La fortuna è stata, tra virgolette, che io avevo una passione che era quella sulla produzione musicale, sulla musica elettronica ed era una passione che mi portavo da tanti anni dietro. La mia è stata poi una scelta realmente fortunata perché ho avuto la possibilità di trovarmi abbastanza bene fin da subito con quelle che erano le materie di indirizzo. Io attualmente mi occupo di musica, sono un tecnico del suono, produttore musicale e lavoro sia per eventi, concerti, eventi di qualsiasi voglia generale che abbia a che fare con la musica. Sono anche tecnico del suono, proprio gestore e responsabile per teatri. Tendenzialmente quello che faccio ora è lavorare sia un po' come freelance, come tecnico del suono, sia anche come produttore o regista di altri progetti che presentano appunto a Milano. Il tecnico del suono ha più o meno le stesse caratteristiche lavorative, almeno per quanto mi riguarda, di una artista o banalmente di un lavoratore in partita IVA. Fondamentalmente gli inizi sono davvero difficili perché lavori tanto, lavori in nero soprattutto. Io tra l'altro ho avuto anche sfiga che sono entrato nel mondo lavorativo durante il Covid, quindi le questioni erano ancora abbastanza irrisolte. Tuttora lavoro tanto ai miei progetti, lavoro tanto anche dal punto di vista del monte ore perché comunque quando ti chiamano lavori anche sulle 15-18 ore al giorno per quell'evento lì. I primi due anni, i primi tre anni devo dire sono tosti. Se non hai una famiglia dietro che ti sta dietro, presso, se sei da solo, se hai anche poche capacità e non riesci effettivamente ad avere un progetto anche fisso o anche semplicemente studiato nel tempo, rischi di fallire. Ho puntato su un mestiere che avesse più a che fare con il live, quindi il mestiere un po' più da evento. Lì, ad esempio, c'è bisogno di molta forza fisica, molta resistenza. Non lo consiglio a chi non sa fare le quattro di notte, ad esempio. O anche per chi non concepisce il fatto di dover lavorare di più senza essere pagati il giusto, perché all'inizio è così. E il motivo per cui parlo di estero è proprio per questo, perché so che alcuni potrebbe non andare giù questa cosa, così come non va tanto giù neanche a me, e quindi è giusto anche parlare del fatto che all'estero e in alcune zone del mondo, e soprattutto in Europa, in Germania, a Londra. I mestieri che hanno alle spalle un percorso di studi come il mio vengono pagati di più, e pagati con una remunerazione più fissa nel tempo. Non è il lavoro d'ufficio, è un lavoro di impresa, è un lavoro in cui tu devi chiamare le persone, è un lavoro in cui ti devi rapportare con tantissime personalità diverse che vanno non solo dall'artista, banalmente, ma anche in tutte quelle che sono gli stage di lavoro che hanno a che fare con un evento. Quindi il direttore dell'evento, il capo, il cliente, è un lavoro molto imprenditoriale, quasi proprio di impresa edile, quasi. E quindi c'è bisogno di tanta elasticità mentale, soprattutto di tanta flessibilità, anche appunto dal punto di vista degli orari. E l'ultima cosa è che sicuramente ha, come avevo detto anche prima, un bisogno di essere centrato all'interno di un progetto che abbia delle scadenze comunque fisse, ovvero dei traguardi che bisogna raggiungere. Il mio progetto banalmente è diventare artista audiovisivo, riuscire a portare i miei progetti in un panorama internazionale, in un circuito internazionale. Quello che faccio attualmente è cercare di seguire questa mia ambizione e mettere a stello dopo a stello i punti per riuscire a seguirla. Io penso che è il modo migliore effettivamente per seguire un progetto artistico. Darsi dei tempi, darsi dei tempi per stabilire qua dove sono e qua dove voglio andare. E quindi darsi una direzione anche dal punto di vista del futuro. Per chi magari potrebbe seguirmi un giovane ragazzo che pensa magari 17 anni che è ora che deve fare una scelta importante della sua vita? No, mi spiace ma le scelte continueranno a esserci, dovrei sempre fare i conti con, secondo me, un piano di progetto, almeno se vuoi vivere di quello che produci dal punto di vista artistico. E questo è fondamentalmente avere una chiara idea di cosa si deve fare per raggiungere i propri obiettivi. Il mio obiettivo è che a 30 anni più o meno avrò già avuto la possibilità di poter vivere di quello che faccio. E quindi non di lavoro esterno ai miei progetti, ma vivere proprio dei miei progetti e credo sia già un gran traguardo questo. Attualmente mi accontento di raggiungere questo a 30 anni, poi per il resto si vede.